L'emergenza Covid condizionerà anche la festività del 2 novembre dedicata alla celebrazione del ricordo dei defunti. L'Arcivescovo di Salerno, Monsignor Andrea Bellanni, ha inirizzato una missiva di fedele sacerdoti in cui ha comunicato le sue decisioni in merito alla celebrazione del 2 novembre, data molto sentita nella tradizione cristiana al pari di quella del 1 novembre, celebrazione di tutti i santi. Carissimi, si legge nella nota, in previsione delle prossime ricorrenze del 1 novembre e del 2 novembre, commemorazione dei fedeli difunti, stante alla situazione di grave emergenza sociale dovuta alla diffusione del Covid-19 per motivi precauzionali non senza sofferenza, stabilisco che non vengano svolte in tali giorni celebrazioni equaristiche in cappelle o all'aperto all'interno, immediatamente all'esterno dei cimiteri, siano essi comunali o di proprietà delle confraternite. Rimane poi ovviamente confermato il divieto di celebrazioni in cappelle private, così scrive Monsignor Bellandi. Se possibile, questo l'invito del Vescovo è che per il 2 novembre siano celebrate sante messe nelle chiese parrocchiali, ed aggiunge, si ricordi ai fedeli, la possibilità accordata quest'anno dalla penitenziiera apostolica di ricevere l'indulgenza plenaria non soltanto nei singoli giorni dall'1 all'8 novembre, ma anche in altri giorni e lo stesso mese fino al suo termine. Qualora le condizioni logistiche lo permettano, in accordo con le autorità civili ed evitando assemblamenti, è consentito un rito di benedizione all'interno dei cimiteri. L'Arcivesco celebrerà il 2 novembre all'ora 18 in forma privata e a porte chiuse una santa messa al cimitero comunale di Salerno, ricordando tutti i fedeli defunti.